durante la mattanza parichi stagliocando ma invece sta cercando una buca fisca a pari di dintali tonnari avete visto mai l'autunno dall'occhio quando mori avete visto mai l'autunno un crocco appizzato dentro un cori parichi stagli reno ma invece sta moreno parichi poli diri non fatemi morire avete visto mai l'autunno appizzato a testa un funno parichi poli diri non fatemi morire facetemi morire di salume mari grazie questa è una canzone di Alfredo Letizia vedi che è collegata allora facciamo un po' di e allora ho bisogno di dieci volontari ho bisogno di dieci voci di mercato uno sono io patate mangiate patate fumurete uno ok uno due tre quattro cinque allora comincio con una voce di mercato io e chiudo sempre io però nel frattempo a ruota tutti e dieci quelle voci di mercato che bella salta come viva con un salvatio salta 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 uco buoni uco padate un po' di mangi baroro baixo ladone uco valo bacala e gloria trattit l'uco 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 La tua mani, la tua mani, la tua mani, la tua mani. Nibola e cadusa e la giranza di chiusa. E soffitti a casa marita, le un sicchia e quasi tisita. E' un po' di cino, ma ci ci ricci, se ve lo diamo e non vuole venire. Aiuta il mercato a cantare un po' di cino, ci ci ricci, dopo di cino. E' un po' di cino, ma ci ci ricci, se ve lo diamo e non vuole venire. Buci! E' un po' di cino, ma ci ci ricci, se ve lo diamo e non vuole venire. Aiuta il mercato a cantare un po' di cino, ci ci ricci, dopo di cino. E' un po' di cino, ma ci ci ricci, se ve lo diamo e non vuole venire. Aiuta il mercato a cantare un po' di cino, ci ci ricci, dopo di cino, ci ci ricci, dopo di cino. Aiuta il mercato a cantare un po' di cino, ci ci ricci, se ve lo diamo e non vuole venire. Aiuta il mercato a cantare un po' di cino, ci ci ricci, dopo di cino, ci ci ricci, dopo di cino, ci ci ricci. E' un po' di cino, ci ci ricci, se ve lo diamo e non vuole venire. Ho dedicato? Ho visto che stiamo facendo un po' di cino. Intanto abbiamo visto che ci sono alcuni quadri, sappiamo benissimo che ci sono alcuni pittori, ci sono stati pittori che hanno dipinto. Voglio dire qualche cosa, è giusto dare la parola ai pittori, che è un altro linguaggio internazionale, che si chiama pittura, giusto? Ma non è solo la pittura, lo salva da rinzo, prego. Qui abbiamo, non so che cosa, perché non siamo realmente l'autrice, ma è abbastanza chiaro, quindi ci sono fatti bene. A voi lo spieghi? Sì, io, se vuole posso spiegare, io da questo quadro, secondo me, io vedo qualcosa che guarda il mondo, qualcosa che vede dall'alto in basso, soprattutto dove c'è il mare, ma sotto il mare c'è qualche altra cosa. Dove c'è quel famoso iceberg freudiano, stiamo perdendo, io lo trovo, ciao. No, ma lei lo doveva dire, scusi. Devo spiegarlo. Allora, il lavoro è dedicato a Pino Veneziano.